Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Negli ultimi giorni si parla sempre più spesso della presunta fine della love story, nata negli studi di Canale 5, tra i due noti volti di uomini e donne ma adesso finalmente tutta la verità è venuta a galla La ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha confessato tutto, riguardo alle indiscrezioni diffuse sulla sua relazione con Ciprian Naftim Ecco come stanno davvero le cose tra Ciprian Naftim e Andrea Nicol di Uomini e Donne A svelare tutto è stata proprio la ex stromista di Canale 5.Uomini e Donne, la verità sulla relazione tra Ciprian e Andrea Nicol Andrea Nicol lo scorso anno è stata una delle troniste del dating show di Canale 5 e ha avuto modo di conoscere tanti corteggiatori Il ragazzo che le ha rubato il cuore è stato Ciprian Naftim. Che lei avesse un debole è stato chiaro a tutti fin da subito, tanto è vero che opinionisti, pubblico e conduttrice non si sono stupiti molto quando lei, dopo la visita a casa di Ciprian, ha deciso di scegliere proprio lui Sono usciti dallo studio insieme e tutto sembrava andare a gonfie vele, perlomeno all'inizio Negli ultimi due mesi infatti, hanno iniziato a circolare tantissimi rumors di una presunta crisi I dubbi si sono fatti via via più fitti e fondati quando anche il vicolo delle news, tra segnalazioni e indiscrezioni ha raccolto tantissime prove che sembravano davvero sufficienti a confermare le voci sulla rottura tra Ciprian e Nicol Adesso però finalmente le risposte che il pubblico attendeva sono arrivate, ed è venuta a galla tutta la verità sulla relazione nata negli studi di uomini e donne La confessione sulla fine della loro storia d'amore.Il motivo che aveva destato più sospetti di tutti era stata la pubblicazione da parte della extronista di una serie di stories pubblicate su Instagram, nelle quali era senza il suo partner Le storie erano girate a Milano e questo ha fatto pensare che i due si fossero volutamente allontanati La verità però a quanto pare è un'altra, entrambi vogliono tutelare la propria riservatezza Dunque se non appaiono spesso insieme nei contenuti condivisi con i fan è solo per questo motivo Tanto è vero che sulla presunta grave crisi di Andrea Nicol con il fidanzato ha detto Sui social non ci siamo mai mostrati tantissimo, adesso ci vediamo di meno quindi pubblichiamo di meno, prossima settimana ci vedremo e qualcosa faremo vedere, smentisco categoricamente qualsiasi tipo di illazione Così Andrea ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni ha chiarito la situazione e spazzato definitivamente via ogni dubbio Le dichiarazioni, riportate su Mondotf24, hanno riempito il cuore dei fan della coppia di Gioia e hanno tranquillizzato molto il pubblico che da mesi ama e segue le vicende dei due ex volti di uomini e donne Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video